E' il 28 avvile 1994. Il vero campionato del mondo di Formula 1 inizia qui, a Imbra. Veniva da due gare non facili, aveva avuto dei problemi in prova. Si confidò con me e Minardi, mi disse la macchina salta molto, io non ce la faccio più, qua continuano a farmi guidare una macchina che ha l'abitacolo stretto. Mi faceva l'impressione quel casco sulla macchina, è proprio pochi minuti prima di morire. Non l'ho poggiato mai sulla macchina. Lo sport, quando succede una cosa di questo genere, spesso si ferma. Frenò disperatamente, tant'è che se ricordo che la decelerazione fu quasi di 5 G. Frenò disperatamente, tant'è che se ricordo che la decelerazione fu quasi di 5 G. Frenò disperatamente, tant'è che se ricordo che la decelerazione fu quasi di 5 G. Frenò disperatamente, tant'è che se ricordo che la decelerazione fu quasi di 5 G.